Eh? Come stai? Come stai? Come stai? Tutto a porso? Secondo te? Ti vedo bene? Non è mica un migeno di donna lei, secondo te no? Giusto? Sì Giusto? E poi la porto a casa tua secondo te? Cioè la porto dall'altra parte no? Secondo te la porto a casa tua? Ascolta, siamo andati con Alessandra Gioia Spiegagli un caffè Lì vicino sotto casa tua, lì al... come si chiama? Adesso a cuccia mi ascolti A cuccia lo vai a dire a qualcuno? A cuccia? Perché ti metto io a cuccia Io ero lì per lavoro Sotto casa mia? Io, Gioia, Alessandra Gioia Alessandra e Giorgio Cosa ti dicono questi nomi? Posso capirti Ma io non posso tollerare Mio figlio Te lo ripeto Francesca Mio figlio Mi guardava fra Bene Mi guardava Mi dispiace Andava a scuola E a mio figlio Gli hanno detto Tua madre è una poco di buono Mi dispiace Fra Ti hanno fatto passare così Che schifo Posso? Che schifo Non... Magari è davvero solo un'amica Ma quale amica Che va a casa mia tre ore e mezza Ma quale amica Amica non amica Non vai a casa mia Ma chi è questa? Ma avranno bevuto un po' di te Magari Andate in albergo Andate a chiacchierare in un bar A casa mia A casa mia A casa mia